Il marito si è messo in mezzo perché il suo fratello si bucava e doveva pagare 50 mila litri di eroina. Capito? Lui si è messo in mezzo per difenderlo e in quelli che hai visto, dici tu che cassa di un piscino, boom, 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 boom. Lui si è messo in mezzo perché hanno visto discuto il fratello che stava sotto effetto di eroina e gli hanno spiegato a lui perché hanno visto che beccia che è, che uomo è che è. Sì, perché era grosso. Sì, hanno visto che questo mi ha detto che mi ha detto che non si è scattato. Si sono messi paura. E boom, 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 boom. Si sono messi paura e gli hanno spiegato. Capito? E hanno disfruttevano mia.